Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottima, temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Quedrugba! Fallo, calcio di punizione. Giallo dunque per il fallo commesso pochi istanti fa. Decisione abbastanza inevitabile dato l'intervento. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Palla in avanti, verso il compagno. Gioca il pallone drogba. Dembele. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Alvarez può essere uno dei grandi protagonisti. Ci crede, cerca la porta. Che grande parata. Non c'è che dire. Il portiere è rimasto lucido e regito bene. L'avversario alla meglio nel corpo a corpo. Beccato in offside da guardaline. Palla che filtra per Trova. Occasione per il contropiede. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Diglia. Ha calciato. Bella parata. Super, un'altra volta. Una parata davvero fantastica. Che riflessi. Guadagnano un tiro dalla bandierina. Il primo assoluto del match. Sventa l'attacco senza sforzi a parete. Qui cercherà il tiro. I loro secondo corner del match. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Possibilità di contropiede. Hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Passa il pallone, però male. Palla a Scholes. David Villa. E c'è il gol. La difesa era distante. Ha potuto insaccare con tutta la calma del mondo. Mi sembra che la difesa qui abbia le sue colpe. Il giocatore che ha segnato era completamente libero. Gli hanno lasciato troppo spazio. E sono stati puniti giustamente. E il risultato si sblocca. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleadori. Palla recuperata. E ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Bell'anticipo. Ora possono ripartire. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo. Visto che hanno buttato al vento il contropiede favorevolissimo. Dembele. Opportunità di ripartire. Trippia. Grandissima lettura. Riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Il tentativo di palla filtrante. Non arriva. Tenta la conclusione. Grande risposta di Provedel. Spattono ancora contro la difesa. Ha provato l'azione individuale. Senza successo però. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe maglie in area. Ad oscurargli la visuale. Una bella giocata nello spazio. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro. Gioco al pallone d'Urba. Fallonetto. Nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Gioco al pallone d'Urba. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Ancora zero per gli avversari. C'è il colpo di testa. Biffa l'estremo difensore. Gli avversari possono solo prendergli il numero di tag a questo punto. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Rogba libera il compagno meravigliosamente. Contrasto rischioso. E questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Prova a giocarla in profondità. Opta per la scivolata e ha ragione lui. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato. Ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Viene servito bene. È solo. Traversone in area. Allontana la minaccia. Fa sembrare tutto facile in difesa. La mette in avanti. Viglia. Ha già lasciato il segno oggi. Va alla ricerca di un compagno davanti. C'è il retro passaggio. A sinistra con il passaggio. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Drogba. Drogba. Perfetta la parata. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Cerca l'uomo là davanti. David Villa. Ottima giocata difensiva. Prova a Salah. Son Yung-min. Intervento decisivo. Si concludono qui i primi 45 minuti di calcio. Che opinioni ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2 a 0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Partiti. E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Cerca Drogba. Non si fermano più. Ancora segno. Vantaggio di tre reti. Potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Pazzesco. Il tiro aveva un effetto pazzesco. Non ci ha pensato due volte. Ha visto la porta. Si è coordinato alla perfezione. E ha colpito la palla in maniera perfetta. Caricandola di effetto. Una conclusione splendida. Tre gol di vantaggio inizierà a diventare tanti. Ci prova. Tiro insidioso ma il portiere dice qui. Non si passa. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. La gioca sulla destra. Prova a inveccare lo scatto sul fondo. Marchignos prevale. Recupera palla. Devono far girare rapidamente i palloni e andare nello spazio. Pressing asfissiante. L'arbitro non fischia. Eh, poteva finire in modo davvero diverso. L'hanno scampata bella. L'allenatore tira un sospiro di sollievo ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Palla ad Oland. Che anticipo. Sembra quasi prevenire il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Grande occasione. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Mbappé intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Davidvi traversa ma non è finita. Attenzione. Altra occasione. Supera la linea. Gol. Sono protagonisti di un dominio incontrastato. La difesa era ben schierata. È riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Questo è un gol di pura caparbietà. Era pressato. Ha resistito. Si è fatto largo trovando spazio per tirare. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Gioca il pallone d'orba. Intervento bello ed efficace. Occhio può andare. Ma sai prova la toglie della porta. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Di Maria. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato. Ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Era al posto giusto. Un bel anticipo. Errore qui. Pallone sprecato. Akanji. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Di Maria. Grandissima lettura. Riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Allarga il gioco a destra. Prova a superare la difesa con un filtrante. Gioca una palla lunga. Ibope. Annonciare conquistato palla. La gioca in profondità. Palla che filtra per Drogba. La gioca all'indietro. Che anticipo. Sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. E qui ci poteva stare anche l'ammunizione. L'arbitro l'ha graziato. E qui ci poteva stare. Substitution on the field. Number 12. Son Hyung Min. Coming on to replace him is... Number 9. Grande risposta di Pagodella. Il portiere dice mi no. Questa volta davvero esagerato. Non aveva proprio speranze di segnare da lì. Sembrano molto sicuri. Hanno già segnato in questo modo. Va di testa. Ha sparato alto. Riconquista la sfera senza tanti... Che leggerezza! Devono stare più attenti. Dìa. Foden. Holland. Campbell. Tocco morbido. Ruba palle in modo magistrale. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ci prova con un pallone, cerca il tiro! E c'è la rete! Il divario tra le due compagini oggi è veramente notevole e questo risultato ne è testimone. Fabio verrebbe da chiedere all'arbitro di anticipare la fine della partita. Per noi è bello vedere gol e spettacolo, ma non posso che empatizzare con chi sta subendo questa omiliazione. E l'ora è un dominio assoluto. Prova a lanciare il compagno. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Ottimo passaggio, deve tirare! La gioca a sinistra. Ecco Lewandowski. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Hanno dominato la partita.